Ci ritroviamo ancora a Rò perché continua il nostro corso di approfondimento sulle elezioni regionali. Le domande sono quelle di rito che stiamo facendo a tutti i nostri candidati e allora partiamo dal perché l'ascesa in campo. Per me è la seconda volta che faccio la campagna elettorale per le regionali. Sono sceso in campo perché Letizia Moratti in primis mi ha chiamato, mi ha raccontato un po' del suo progetto, mi è piaciuto molto, è una lista civica. Io sono un civico puro da diversi anni per cui ho aderito immediatamente alla sua richiesta. Riassumere in poche parole il programma è cosa complicata, però possiamo riuscire a tramandare quello che è il programma in generale e soprattutto la visione? Sì, il programma in generale si sviluppa soprattutto su tre assi, su tre punti. Il primo naturalmente è quello della salute, anche perché la dottoressa Moratti, come ben sapete, ha fatto molto bene il suo lavoro questi due anni di assessorato. Poi il lavoro e poi la sicurezza e il trasporto sono i quattro punti principali del nostro programma. E invece per quanto riguarda lei, qual è il punto cardine sul quale vuole concentrarsi o vuole partire all'indomani dell'elezione? Io sono sempre stato nelle commissioni che riguardano il lavoro, sono un commerciante, sono un piccolo imprenditore per cui sono particolarmente sensibile ai timi del lavoro e mi piacerebbe riportare la Lombardia molto in alto nella posizione che merita, nella posizione nella quale eravamo qualche anno fa, qualche decennio fa, insomma, le prime in Europa, per cui internazionalizzazione, più lavoro, migliore organizzazione, detassazione, insomma, sul campo delle attività produttive.